Dobbiamo tutelare il reddito agricolo, è la cosa fondamentale. Abbiamo visto il tempo, i momenti sono cambiati, la normativa è datata e abbiamo assoluta necessità di permettere all'imprenditore, ovvero di fare l'imprenditore e tuttavia di dare la possibilità di potersi tutelare. Ci sono tanti cambiamenti, come ben sappiamo, l'ultimo per esempio è questo fortissimo attacco di peronospora o la bassa delitività di alcuni prodotti che ovviamente l'imprenditore non può gestire e quindi abbiamo necessità di nuovi strumenti, di nuovi attrezzi che permettono all'imprenditore di fare l'imprenditore con i rischi del caso e di avere queste possibilità. È una questione che poniamo e che dobbiamo porre a livello europeo, nazionale e regionale. Gli strumenti ci sono, basta avere un po' di coraggio, vorremmo evitare il piccolo contributino, il pannicellino caldo e provare ad aprire nuove strade. I fondi mutualistici per esempio abbiamo visto Agricat, una maggiore attenzione anche alla gestione e anche ai mercati. Di tutto questo parleremo il 17 di gennaio, nel pomeriggio, e quindi vi aspettiamo per quella serata che crediamo senz'altro fosse di interesse e possa essere anche forera di qualche spunto interessante.